Fa ancora discutere la tassa straordinaria sugli extraprofitti delle banche. Si attende ora una presa di posizione ufficiale dal mondo degli istituti di credito. L'ABI oggi ha riunito il Comitato di Presidenza. Bocche cucite dei banchieri sulle risposte al prelievo sugli extraprofitti deciso dal Governo. Dopo la precisazione del Ministero del Tesoro sul tetto dello 0,1% degli attivi, i banchieri italiani contano di ridurre ancora l'esborso di 3,8 miliardi che risulta dagli ultimi calcoli effettuati. Finora il Presidente Patuelli è rimasto in silenzio, ma dietro le quinte si percepisce un lavorio costante di sponda con Tesoro e Banca Italia. Secondo l'agenzia Moody's, con la tassa il sistema bancario pagherà una cifra complessiva corrispondente al 15% del suo utile netto totale per il 2022, ma gli istituti riusciranno a chiudere l'esercizio in corso con un risultato superiore rispetto allo scorso anno. Lando Sileoni del sindacato dei bancari Fabi. Non è una tassa illiberale, in quanto è un provvedimento che tocca gli extra profitti delle banche, in quanto le banche applicano interessi zero sui conti correnti, mentre applicano tassi abbastanza alti, intorno al 4-5% sui prestiti sui mutui, per decisioni anche dalla Banca Centrale Europea. Paola Cortese, GR3